Maurizio Nassi, oramai non si può più sbagliare perché dopo il colpazzo conquistato a Mazzara, domani arriva l'ultima in classifica e bisogna aumentare il vantaggio sulle dirette concorrenti. La Serie D vi sta aspettando, adesso tocca a voi. Assolutamente, ormai mancano sei partite. Siamo riusciti da Mussumeli a fare un grande girone di ritorno. Abbiamo recuperato parecchi punti, adesso dopo domenica a Mazzara, vincendo a Mazzara siamo tre punti avanti rispetto alle altre. Quindi dobbiamo proseguire, non ci possiamo nascondere, però senza sottovalutare l'impegno di domani perché arriverà una squadra che non ha niente da perdere e sono le partite più complicate secondo me. Dunque sulla carta un impegno facile, però poi il campo che deve dire la propria. Purtroppo è sempre così. Noi abbiamo visto che con le squadre che vengono qui a salvarsi e a chiudersi facciamo un po' di fatica. Domani sarà una partita, ripeto, che loro non hanno niente da perdere. Noi non dobbiamo sottovalutare, ma non l'abbiamo fatto in settimana lavorando bene. Dobbiamo conquistare i tre punti e poi vedere cosa fanno le altre. Domani, come del resto accade ogni volta giocate in casa, sarà importante, se non fondamentale, l'apporto del pubblico che vi segue con particolare interesse anche in trasferta. Sì, domenica a Mazzara c'erano tante persone di Gela, questo significa che ci credono come ci crediamo noi. Spero che domani ci sia un po' di gente allo stadio per spingerci ad ottenere un risultato che credo tutti in città vogliono. Due partite consecutive in casa, sei punti all'orizzonte? Intanto pensiamo alla partita di domani, che non abbiamo vinto sulla carta. Noi dobbiamo vincere in campo domani, ottenere i tre punti per continuare nel nostro cammino importante verso un obiettivo importante. Poi alla partita del Campofranco ci penseremo a martedì prossimo. Quanto ci credi in conclusione all'Asile Dio? Io ci credo tantissimo come ci crede la squadra, ma ci abbiamo sempre creduto anche quando forse gli altri non lo facevano. Perché questa è una squadra importante, è una squadra che da dicembre o forse anche di più, da mussumeli non perde più. Abbiamo fatto partite meno belle, ma tante, tante belle. Ci crediamo, è un obiettivo importante, è un obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Adesso mancano sei partite, non ci possiamo nascondere, è lì alla nostra portata e non possiamo sbagliare.